salve ragazzi oggi parleremo di consigli utili se pensate che questo messaggio possa essere utile allora condividetelo forse penserete che sia diventato matto o che sia uno stupido ma meglio ricordare questo stupido matto che questi esperti che ci stanno mandando in malora in fallimento e ci stanno mettendo una paura terribile allora prendiamocela ridere fate come me corona state a casa lavarsi le mani disinfettare stranutire camminare e allora ragazzi che ne dite solo solo dei piccoli consigli siate responsabili meglio essere informati e se dovete dire grazie ditelo solamente al loro